Mi ricordo che da bambino mia madre mi diceva sempre, che mi chiedeva cosa volevo fare da grande, io dicevo o il cuoco o il pittore. Siccome sono negato per la cucina, non so come sarei venuto fuori come cuoco. Credo che per i miei comensali è molto meglio che abbia fatto il pittore.